Buongiorno a tutti, è veramente presto. Io sto aspettando di fare colazione proprio via a Marecio, ad aiutare Massimo, farò la coaching della mamma, forse se non c'è cosa non diventa complicato, non lo so. Preparerò il cassone, tutti i sottoselli, i paracolpi, le cabezze, tutti i chiari 5 di oggi, poi diciamo non caricarci i cavalli, e andiamo a barbellino con lucelle per fare questo spettacolo in alta scuola, che vengono fuori sera. Sarà un videoblog, forse un po' lungo? E niente, a te tardi. Tre cifatte, un po' da meglio, ciuffi, comunque mi siamo capiti, e lui è fatto. Anche la cuota è stata lavata, e questo non tirano affatto. secondo cavallo, sali. Anche sali fatto. Con la lavata, anche sali. Faccio un funk. Sono tornata adesso a casa, è l'ora di pranzo. Tempo di pranzare, scaricare la GoPro. Verso le 3, 3 o un quarto porto da casa e vado in scuseria per essere alle 4. E via, ci vediamo dopo! Siamo appena arrivati, qui a barbellino. Noi siamo già vestiti. Noi siamo già vestiti. Noi siamo già vestiti. Noi siamo 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 vestiti. Siamo vestiti. Siamo vestiti. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti